Benvenuta agli Stati Generali della Natalità. Un saluto intanto a tutti i presenti, alle famiglie, ai ragazzi, a tutti quelli che sono qui, in particolare un grazie agli organizzatori, alla Fondazione per la Natalità e al Forum delle Associazioni Familiari che contribuisce a questo appuntamento che ormai è diventato un appuntamento storico, un appuntamento fondamentale. Sulla Natalità ormai su tutto quello che sappiamo tutto sulla denatalità, su quello che io più volte ho definito più che un inverno demografico, un inferno demografico e i dati sono stati offerti, anche Bordignon ha spiegato che cosa significa in termini di sostenibilità del welfare, di sostenibilità del sistema sanitario, dello spopolamento dei piccoli comuni e delle aree interne, su questo spesso non se ne parla abbastanza, e quindi della salvaguardia del patrimonio che questi nostri piccoli comuni rappresentano, patrimonio artistico, architettonico, di tradizioni fra l'altro e ambientale. E sappiamo soprattutto che un mondo con pochi giovani è un mondo che ha meno capacità di essere al passo coi tempi, quindi meno capacità di innovare, di creare, di inventare anche nuovi lavori, di essere appunto in grado di affrontare le sfide della contemporaneità. E questo è una perdita secca per la capacità del nostro Paese di seguire i cambiamenti che sono sempre più veloci. Però si è chiesto qui di dire cose concrete e noi abbiamo già non solo detto cose concrete, anche fatto cose concrete con questo Governo fin dal primo momento in cui ci siamo insediati, fin dalla legge di bilancio che è stata immediatamente pochi giorni dopo proprio il nostro insediamento e ne parleremo. Però è importante, anzi dobbiamo dire ancora prima perché fin dall'attitolazione del mio Ministero, che era semplicemente il Ministero per le pari opportunità e per la famiglia, e adesso per la prima volta è anche il Ministero per le pari opportunità, famiglia e natalità, che sono tre cose strettissimamente collegate. Io dico sempre che disegnano un programma di Governo. Però è importante anche fare delle analisi adeguate, chiarire quali sono effettivamente le motivazioni del calo di natalità. Per molto tempo si è sostenuto che le ragioni sono solo o principalmente economiche, oppure che il problema fosse la stabilità del lavoro. Insomma abbiamo dato per scontato che con un lavoro stabile, un buon grado di benessere, un welfare attento e generoso verso le famiglie, si sarebbe tornati a fare figli. Bisogna dire che però i dati a nostra disposizione dimostrano che non è così. Il che non significa che non bisogna compiere ogni sforzo possibile per migliorare le condizioni delle famiglie italiane, ed è quello che stiamo facendo e vogliamo fare. Significa però evitare letture semplicistiche, che non ci aiutano a effettuare diagnosi adeguate del problema e quindi a mettere a punto terapie efficaci. Gli esempi sono molti. In primo luogo c'è il ben noto paradosso demografico, per cui sono i paesi più poveri che fanno più figli. Noi lo sappiamo, l'Italia lo sa meglio di tutti, perché negli anni Sessanta e anzi prima il declino è cominciato proprio nel momento in cui è cominciato il benessere italiano, perché noi facevamo figli sotto le bombe, facevamo figli negli anni immediatamente successivi al dopoguerra e anzi all'epoca si parlava di rischio di sovrappopolazione, di bomba demografica. Molto velocemente invece la natalità è scesa proprio nel momento in cui saliva il benessere. Quindi di questo paradosso demografico siamo un esempio. Va anche sottolineato come la denatalità avanza in tutti i paesi sviluppati. In Europa non c'è nessuno che sfiori il famoso tasso di sostituzione, quello che permette alla popolazione di restare stabile, i 2,1 figli per donna. Tutti i paesi europei sono sotto questa percentuale, inclusa la Francia, inclusa la Svezia, inclusa la Germania, tutti i paesi. La Francia poi veramente da molto tempo ha impostato importanti, efficaci anche politiche demografiche, però nonostante questo oggi anche la Francia è sotto il tasso di sostituzione. E non solo, ma secondo le proiezioni disponibili, quelle per esempio pubblicate dal Lancet, in una cinquantina d'anni con le attuali tendenze la popolazione mondiale comincerà a diminuire e in una ventina di paesi, tra cui il nostro, addirittura si dimezzerà. Ed è facile anche verificare come i numeri spiazzino le nostre più ovvie e radicate convinzioni in merito e diano risultati sorprendenti, a volte persino contraddittori. Per esempio abbiamo più figli in regioni con meno servizi per l'infanzia, noi vogliamo i servizi per l'infanzia e stiamo agendo molto intensamente su questo con il PNRR, abbiamo l'obiettivo PNRR che riguarda appunto la costruzione degli asili, soprattutto nelle zone dove sono di meno, nel Mezzogiorno d'Italia. Però dobbiamo ammettere che abbiamo più figli, a volte in regioni con meno servizi, piuttosto che in regioni dove i servizi ci sono e sono anche di ottimo livello. Oppure vediamo differenze consistenti nelle percentuali di nascite, a parità di buone politiche per la famiglia e anche a pochi chilometri di distanza, come accade per esempio nella comparazione fra Trento e Bolzano. A Bolzano abbiamo 1,75 figli per donna, a Trento con le stesse politiche, 1,42, molto più in linea con la media nazionale. Oppure ancora leggiamo come, secondo le indagini, lo riporta il sociologo Roberto Volpi nel suo libro La fine della famiglia, non ci sia per i giovani una differenza significativa tra chi ha un lavoro stabile e chi non ce l'ha quando si tratta di uscire dalla famiglia d'origine per mettere in piedi una famiglia propria. Quindi capire e fare analisi è importante per non rifugiarsi in idee scontate, che scontate poi invece non sono, e compiere di conseguenza scelte poco efficaci. Ieri è uscito un articolo che condivido molto di Luca Diotalevi, molti di voi lo conosceranno, che ribadisce proprio come le motivazioni della denatalità siano in primo luogo culturali e che è su questo piano che bisogna attuare una svolta radicale, evitando spiegazioni semplicistiche che porterebbero appunto a soluzioni illusorie. Che cosa dobbiamo fare? Quindi torniamo alle cose concrete. Abbiamo bisogno quindi di una vera rivoluzione culturale, di un cambiamento significativo per quanto riguarda la genitorialità. Siamo di fronte a un mondo diverso da quello dei nostri padri e anche da quello che ho vissuto io e su questo dobbiamo misurarci, perché non vogliamo tornare indietro ma vogliamo andare avanti, vogliamo davvero costruire il futuro e abbiamo di fronte una legislatura intera per farlo. Siamo un governo di legislatura, finalmente un governo votato dagli italiani. E questo governo ha iniziato subito. con grande intensità e concentrazione a mettere al centro l'obiettivo della natalità e della famiglia. Ha messo il tema all'ordine del giorno, come ho già detto dalla denominazione del mio ministero, e ha fatto una questione centrale della natalità anche nel programma di governo. Ne ha fatto una questione prioritaria, con un approccio innovativo, trasversale per materia, strutturale e non episodico. Non ci si limita infatti agli interventi diretti per la famiglia. Il nostro governo ha considerato i figli come un criterio orientativo per tutti i provvedimenti che sono stati fatti e che faremo. Un criterio fondante, dal fisco agli incentivi alle imprese, dai bonus edilizi, agli aiuti contro il caro bollette, dai fringe benefit all'assegno di inclusione che sostituisce il reddito di cittadinanza, i figli sono sempre stati il parametro di rimente. E questo per noi significa priorità. Quindi non qualcosa di affidato solo al mio ministero, che peraltro è anche senza portafoglio, ma qualcosa che attraversa tutti i provvedimenti e tutti i ministeri come criterio fondamentale di orientamento. Mi scuso se ripeterò cose che già conoscete perché sono state dette più volte, ma mi sembra doveroso anche in questa sede dare conto delle tante iniziative intraprese dal governo in questi pochi mesi di attività. Già nella legge di bilancio, come abbiamo detto, a poche settimane dall'insediamento e in piena emergenza energetica con le famiglie che chiedevano aiuto per sostenere il costo delle bollette, abbiamo stanziato un miliardo e mezzo tra aumento dell'assegno unico che fra l'altro stiamo difendendo un'Europa perché pende sull'assegno unico una procedura di infrazione, ma naturalmente è intenzione di questo governo difenderlo fino in fondo, potenziamento dei congedi parentali, riduzione dell'IVA sui prodotti per la prima infanzia, decontribuzione per l'assunzione di giovani e di donne mutui e agevolati per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie. E veramente sfido chiunque a trovare molti precedenti simili. E non ci siamo fermati. Nella delega fiscale, e quindi nella riforma prossima del fisco, la natalità, il sostegno alle famiglie, i costi sostenuti per la crescita dei figli sono individuati come parametri essenziali per la definizione della riforma. Persino in un provvedimento che potrebbe sembrare entrarci poco con la famiglia, il riordino del sistema degli incentivi alle imprese, è stata riconosciuta una premialità alle imprese che valorizzano la natalità, nonché la qualità e la quantità del lavoro femminile. Il lavoro femminile è un punto fondamentale perché fin quando le donne vivranno la maternità come un'opzione alternativa alla realizzazione professionale, perché il sistema non favorisce la conciliazione tra lavoro e maternità, fra vita e lavoro, sarà difficile sperare di invertire la tendenza del declino demografico. Da ultimo, con i provvedimenti varati il 1 maggio, non solo abbiamo rifinanziato i centri estivi fondamentali per le famiglie e per i comuni, fra l'altro, aumentando le risorse a disposizione, ma abbiamo sostituito il reddito di cittadinanza con una misura fortemente tarata sul numero dei figli e quindi abbiamo contrastato il rischio di povertà infantile e siamo intervenuti anche sui fringe benefit, anche qui per i lavoratori con figli. Come abbiamo accennato, c'è l'esigenza primaria di conciliare il lavoro femminile con la maternità, perché qui invece tutte le indagini sono concordi, non ci sono contraddizioni su questo fronte. Tutte le indagini sono concordi nel dire che le donne desiderano ancora fare figli, anche questo è stato detto, le donne secondo le indagini desiderano generalmente fare un paio di figli e poi però non li fanno, come sappiamo ne fanno solo uno, non ne fanno nessuno, li fanno tardi. E se questo desiderio non si realizza, evidentemente ci sono degli ostacoli da cui dobbiamo sgombrare il terreno. E c'è bisogno quindi di pari opportunità. L'ho detto fin dall'inizio, il titolo del mio ministero è un programma di governo, perché non avremo più natalità se non avremo più famiglia, ricordo fra l'altro che ormai il 30% delle famiglie è composto da una persona sola, non avremo più famiglia e più pari opportunità. Pari opportunità non significa egualitarismo e tantomeno omologazione, significa al contrario partire dalla differenza, considerare proprio questa differenza fra uomo e donna che è la differenza fondamentale su cui si struttura il gruppo umano. Si è detto che è ingiusto trattare in modo diverso persone uguali, ma che anche trattare in modo uguale persone diverse. Le donne sono diverse, le donne partoriscono, allattano, hanno una gravidanza, fanno un'assenza dal lavoro che è un'assenza tutelata e dovuta ed è fondamentale che invece tutto questo non sia un ostacolo, tutto questo non sia un ostacolo alla espressione dei loro talenti, delle loro vocazioni, della voglia delle donne di espandere se stesse e anche in tutti i campi, nella realizzazione professionale, nella vita privata, nella vita pubblica. Abbiamo finalmente un presidente del Consiglio donna ed è anche mamma, quindi vediamo che tutto questo è possibile, solo che vogliamo che sia più facile, molto più facile. e allora senza togliere nulla al ruolo fondamentale dei padri dobbiamo costruire ambienti lavorativi che sappiano accogliere la maternità, plasmarsi su di essa, disegnarsi su di essa e non sfavorirla, perché dire che mamma e papà sono entrambi importanti è ovvio e noi qui siamo tutti d'accordo, ma dobbiamo prendere atto che sono le madri a dimettersi dal lavoro dopo la nascita di un figlio, sono le madri a usufruire in gran parte dei congedi parentali disponibili peraltro a entrambi i genitori, sono le donne che pagano il prezzo di eventi naturali come gravidanza, parte e allattamento al seno e non hanno un sufficiente riconoscimento sociale. Quindi anche in questo senso ci sono in campo iniziative concrete dalla certificazione della parità di genere per le imprese nell'ambito del PNRR al codice di autodisciplina che come Ministero abbiamo promosso in lanciato per indurre buone pratiche e soprattutto per suscitare un clima nel campo del welfare aziendale un clima spontaneo sostanzialmente, un'adesione volontaria ai criteri che privilegiano e premiano l'avere figli. La sfida infatti non è quella di imporre soluzioni dirigiste ma quella di costruire appunto un clima, mettere in rete le tante energie spontanee che ci sono nella società e restituire alla maternità un valore sociale che un tempo era unanimemente riconosciuto e che oggi invece è molto oscurato. La sfida è quella di pensare all'organizzazione dei servizi come un tempo funzionava spontaneamente la rete parentale attraverso la trasmissione di competenze e la solidarietà spontanea della rete parentale. Ecco, dobbiamo farlo attraverso la costruzione di un welfare di prossimità valorizzando le tante competenze maturate nel fare genitori nell'essere i genitori nel fare i genitori e trovando un nuovo modo di tramandarle e metterle al servizio degli altri. C'è qui una mia collaboratrice che è professoressa universitaria di chimica fisica Assuntina Morresi e che racconta sempre come compilando un curriculum per un concorso universitario essendoci un vuoto di pubblicazioni perché aveva fatto tre figli uno dietro l'altro e provò a scrivere nel curriculum che appunto aveva fatto tre figli aveva avuto tre gravidanze e invece gli dissero no, questo non è possibile. Lei ribatté dicendo beh, vabbè erano altri tempi c'era il servizio c'era la leva obbligatoria ma tu scrivi che hai fatto il servizio di leva tu uomo perché io non posso scrivere che invece ho fatto tre figli qualcosa che ho fatto per tutta la comunità non soltanto per me stessa ecco questo è per esempio un esempio eclatante del valore sociale della maternità cioè del riconoscimento del fatto che chi fa un figlio lo fa ovviamente per se stessa o per la propria famiglia ma fa anche un lavoro socialmente utile le donne che fanno figli fanno veramente il massimo del lavoro socialmente utile e lo fanno veramente per tutta la comunità per la solidarietà delle generazioni per la tenuta sociale per la tenuta della nostra comunità e non soltanto perché appunto senza figli il futuro non esiste ma proprio perché senza figli non c'è neanche quella solidarietà tra le generazioni di cui abbiamo assolutamente bisogno quindi ecco riconoscere prima di tutto il valore sociale della maternità in tutti i campi in tutti gli ambiti concludo noi come governo ci siamo come ho detto ci resteremo e quindi avremo il tempo anche perché i provvedimenti per la famiglia per la natalità per la maternità possono dare frutti nel tempo è importante avere davanti il tempo e usarlo bene ci siamo e abbiamo già fatto molto pur nei limiti delle risorse che scontiamo continueremo a fare di più sollecitando come ho già detto anche le tante energie che ci sono nei territori nel mondo produttivo nel no profit e mettendo anche insieme le tante buone pratiche che ci sono ma che sono un po' a spot che sono affidate alla volontà dei singoli alla buona volontà dei singoli e non sono sufficientemente messe in rete e incoraggiate sappiamo quello che faremo e sappiamo anche quello che non faremo non promuoveremo come troppo spesso è stato fatto in passato una politica e una cultura che sviliscono la genitorialità e la maternità non asseconderemo la deriva antropologica che ha colpito il nostro mondo il mondo occidentale che ha portato allo smarrimento della famiglia e della sua centralità non spargeremo lungo la strada della ripresa demografica ostacoli e messaggi scoraggianti e anzi cercheremo di sgombrarla da tutto quello che frena la voglia di fare e la speranza nel futuro lo faremo con grande determinazione perché sappiamo dove vogliamo andare grazie 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 a tutti